ciao a tutti buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata speciale di cinemascope sono emanuele rauco curo per bachemono lab da un po di tempo un podcast chiamato cinemascope il sottotitolo è due o tre cose che so di lui cioè del cinema in realtà il vero sottotitolo che cambierà dalla prossima puntata che andrà in onda dopo la befana la prossima puntata che non ho ancora registrato sarà la storia del cinema vista dai margini questa puntata di cinemascope qui fra poco si aggiungerà valentina cestra che è la una del che è la mente e il corpo e le braccia di bachemono lab questa puntata è dedicata a un personaggio molto particolare nella storia del cinema ti da bara è un personaggio molto particolare a cui abbiamo voluto dedicare una puntata perché bachemono lab ha dedicato ha organizzato una mostra che si sta tenendo in questi giorni fino a domani cioè a martedì 21 dicembre a roma e poi viene parlerà meglio la stessa valentina una mostra dedicata a questo personaggio che un personaggio che per tanti motivi è importante della storia del cinema pur non essendo un personaggio di quelli che viene ricordato dalla storia del cinema pur non essendo una delle figure centrali appunto una di quelle figure marginali che con bachemono e cinemascope ci piace raccontare ci piace ricordare ti da bara è considerata la prima sex symbol della storia del cinema è considerata la prima grande invenzione della pubblicistica cinematografica e di questo appunto come dire del suo personaggio iconico parla la mostra che si sta svolgendo a roma heart and soul ma parlerò anche anche io però vorrei partire da un altro momento perché c'è un momento in cui come dire la storia diventa mito citando john ford in l'uomo che uccise liberty valance quando a un certo punto si stampa la leggenda quando la storia diventa verità si stampa la leggenda ecco cominciamo dal momento in cui ti da bara diventa leggenda la storia di da bara vera cioè di quando dalla storia del cinema è entrata nel mito nella mitologia del cinema è il 1937 ti da bara smesso di recitare da più di dieci anni dopo aver affrontato un rientro difficile dopo cinque sei anni di primo stop e a un certo punto nel 1937 nei magazzini della fox scoppia un incendio quell'incendio che distrugge decine e centinaia di pellicole le pellicole normalmente la pellicola cinematografica è particolarmente infiammabile e agli inizi della storia del cinema era ancora più sensibile ancora più infiammabile di quanto poi sarà dopo di quanto poi è adesso per quanto residue e residuali siano le pellicole cinematografiche quell'incendio distrugge sostanzialmente tutta la filmografia di titabara che era raccolta che era conservata proprio nei magazzini della fox si salvano pochissime opere quattro lungometraggi e due cortometraggi peraltro i due cortometraggi sono i due cortometraggi del suo rientro di quando tra il 1925 e il 1926 finendo un periodo di sei anni di pausa diciamo così ed è una pausa che era una pausa come dire in qualche modo voluta ma imposta dal sistema e la storia di titabara e anche la storia di una donna vittima di un certo tipo di sistema potremmo definire così in quel momento sei film su 45 che lei girò tra il 1914 e il 26 ma soprattutto tra il 14 e il 19 spariscono in quel momento quando la sua immagine e la memoria la conservazione della sua immagine spariscono diventa un mito perché però titabara è diventata un mito andiamo come dire andiamo con ordine partiamo per esempio dal dal motivo principale per cui è entrata nella storia del cinema ovvero l'invenzione del termine vamp vamp come saprete è una come potete immaginare se non lo sapete è una contrazione di vampira perché perché nel suo primo film nel suo primo film come dire riconosciuto the stain diretto da frank powell che il regista che la che la scopre che il regista che nel negli anni dieci la scopre a teatro e la porta a diventare una una diva la porta al cinema cercando di farla diventare una diva interpreta sostanzialmente una vampira ma il vero termine e il senso del termine vamp arrivano con il film successivo che è datato appunto the stain del 1914 il film successivo è del 1915 sempre diretto da powell e si chiama appunto la traduzione italiana la vampira ma il titolo originale è full there was cioè c'era uno sciocco è una citazione è una citazione anche qui colta in un certo senso vampira vamp soprattutto ha un significato diverso da quello di vampira nel senso gotico e horror del termine il personaggio che diventerà il personaggio che in cui è stata costretta per tutta la vita ti da era quello di una donna estremamente sensuale estremamente lasciva ma anche estremamente approfittatrice che seduceva gli uomini non semplicemente gli uomini che le sembravano belli ma gli uomini che le sembravano ricchi che potevano accrescerla e sostanzialmente succhiava loro tutta l'energia succhiava loro il denaro succhiava loro il potere e soprattutto succhiava le energie fisiche come se poi alla fine di questi rapporti di queste relazioni una volta che l'uomo restava a terra stordito effettivamente fisicamente a terra il film quando ci presenta il personaggio il film mostra il suo amante prima che lei si educa il protagonista del film mostra il suo amante che disperato per l'abbandono da parte di lei della della protagonista si suicida su una nave il film e poi poi il film finirà proprio come fa un vampiro quando la vampira ha succhiato tutte le energie e il personaggio del protagonista in questo caso muore la protagonista la vampira si è rigenerata ha potuto riprendere tutte le energie e quindi va oltre a caccia della prossima vittima è un film anche piuttosto è un film melodrammatico ma anche un film piuttosto cupo soprattutto per i tempi ma su questa cupezza ovviamente si gioca il successo e la il successo e la fortuna del personaggio di barra che appunto lo proseguirà per tutta la vita ma questo personaggio e questa scelta artistica ma anche produttiva ma anche come dire di immagine va di pari passo con l'altro motivo per cui ti da barra diventa famosa ti da barra è la prima grande invenzione del marketing non esiste ti da barra esiste esiste teodosia goodman che nasce nel 1885 come teodosia goodman e che cerca di diventare attrice e lo diventa frank power la nota a teatro e la porta con sé nel cinema ma nel primo film the stain lei è ancora teodosia goodman a un certo punto i pubblicitari della fox trovano questo hanno quest'idea questa di inventarsi un personaggio inventarsi una figura completamente altra rispetto anche alle dive che cominciano nel cinema degli anni dieci a arrivare sullo schermo in italia per esempio c'erano le grandi di attrici teatrali che vengono portate al cinema e che diventano le prime grandi figure di dive e così nel cinema europeo soprattutto prima di arrivare al divismo americano ecco ti da barra ti odosia goodman è una delle prime grandi dive del cinema americano del cinema hollywoodiano e per farlo devono creare questo personaggio altro che è diverso da tutto ciò che hanno finora visto gli spettatori cinematografici e che punta su qualcosa che all'epoca si poteva ancora fare prima che negli anni trenta entrasse in vigore il codice hayes quello in cui si autocensuravano le produzioni secondo questo come dire questo codice molto moralistico andavano ad autocensurare le immagini e i racconti e le parole dei film ma ancora nel 1910 il sesso poteva essere messo in mostra poteva essere usato come veicolo e non è solo sesso non è semplicemente che si costruisce intorno a teodosia goodman un personaggio sensuale con vestiti particolarmente ose e compose particolarmente la scive per l'epoca soprattutto è un personaggio che ha questo sesso che ha questo modo di rappresentare il sesso lega anche la morte lega anche la paura il mistero su tida intorno a teodosia goodman creano questo personaggio di tida bara il cui nome sarebbe il mix tra un uno scultore italiano bara è una è una danzatrice tida il cui nome era tida e si costruisce il personaggio di una donna vissuta per molti anni nata in egitto e vissuta all'ombra delle piramide e che nel corso degli anni ha imparato dalla madre che era una ballerina le doti seduttive e dal padre scultore le capacità artistiche il gusto del bello la capacità di sedurre attraverso il bello si mettono insieme queste due cose e si comincia a creare questo personaggio che flerta continuamente con la morte con l'occulto con lo spiritismo potremmo dire così a un certo punto il personaggio funziona così tanto non solo perché i film che fa sono di grande successo ma perché sono di grande successo perché si riesce ad attirare il pubblico tramite questo questa figura di mistero questo personaggio lugubre ma allo stesso tempo estremamente affascinante proprio come una vampira proprio come una figlia di dracula dracula e i vampiri sono personaggi che incutono paura e allo stesso tempo incutono fascino anzi affascinano mentre spaventano tutti sanno che di questa vamp possono morire tutti sanno che probabilmente si muore a causa di questa vamp ma non c'è niente nessuno che può fermare il il meccanismo di seduzione il meccanismo dell'erotismo questo personaggio funziona moltissimo e funzionano i suoi film sono dei grandissimi successi e la cosa bella poi appunto come dicevo prima si entra nella mitologia in pochissimi hanno potuto vedere questi film soprattutto i suoi film più di successo è come se come dire il destino si fosse mescolato alla genialità dei publicist alla genialità dei degli uomini del marketing perché quando questa figura che ha così a che fare con la morte con il mistero a cui veniva chiesto di incarnare un personaggio fittizio uno dei primi avatar potremmo dire della storia della storia della società della cultura dello spettacolo a questo personaggio che normalmente doveva essere costantemente in scena a un certo punto gli si nega l'immagine e quindi dei suoi film più famosi dei suoi film dei suoi personaggi più celebrati come cleopatra o salome non restano che pochissimi minuti di cleopatra restano 20 secondi e qualche fotogramma mentre di salome sono stati ritrovati da poco da poco relativamente poco da qualche anno un paio di minuti che si trovano in una si trovano in spagna la sceneteca spagnola oltre alle varie fotografie e quindi questo aumenta il senso di mistero che ha a che fare con la figura di tida bara e quindi dicevo questo personaggio diventa così tanto forte così tanto direttamente capace di comunicare alle esigenze dello spettatore al gusto perverso anche dello spettatore che il cinema non ha mai smesso e ha data subito iniziato a titillare che gli spettatori stessi i giornalisti stessi alimentavano il il mito e dove non arrivavano le idee di degli addetti stampa barra sceneggiatori della vita di teodosia tida arrivavano i giornalisti a un certo punto dei giornalisti notano che tida barra è un anagramma è l'anagramma di arab death la morte araba lei che non aveva mai visto l'egitto nonostante la storia racconta racconti che lei c'è nata ha anche questo carico i publicist ovviamente colgono la palla al balzo e dicono questo è un altro colpo inventiamoci che il nome potrebbe essere quello della morte araba dicevamo fino al 19 in attesa che arrivi valentina valentina di bachemono con cui appunto parlare non solo della della figura di tida ma anche del della mostra che stiamo che bachemono sta tenendo in questi giorni andiamo andiamo oltre a un certo punto questo questo modo di vivere non è semplicemente più non diventa più semplicemente per per tida anzi teodosia non è più un modo per fare soldi e fare spettacolo ma diventa una gabbia più volte nel corso di quei cinque anni di fuoco in cui il suo mito si costruisce più volte cercherà di di fare altro di non essere costretta al personaggio della della vamp però non c'è niente da fare non c'è niente da fare perché i film in cui non interpreta la vampi il film in cui riesce a convincere i produttori a dare altri ruoli per esempio il ruolo dell'eroina sulla scia delle grandi eroine di di david griffith la lilian gish di david griffith non avranno successo o se avranno successo al botteghino saranno comunque mal considerate o meno considerate da parte del pubblico e della critica un aneddoto racconta che durante un incontro pubblico in cui lei stava parlando dei suoi dei suoi progetti lei ponesse una domanda al al pubblico e ha due domande di cui una era volete vedermi come eroina e l'altra volete vedermi tornare come vampira e quando chiedeva questa cosa quando chiedeva se qualcuno l'avesse voluta come vampira tutti rispondevano con un con un clamore che nell'altra domanda invece era molto molto più temperato comunque cerca di smarcarsi da questo personaggio però non ci riesce appunto per questi motivi quindi continua a fare la vamp dicevamo le sue interpretazioni più vi metto qualche qualche immagine della mostra le sue le sue interpretazioni più 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 importanti più celebrate sono quelle di cleopatra e vado a cercarvi se vedo un'immagine ecco qua questo è una delle opere che sono messe in mostra di tida come cleopatra un un ruolo diventato iconico proprio come dicevo prima in virtù del fatto che non c'è ci sono pochissime immagini immagini di quel film come dicevo prima 20 secondi che si possono trovare su youtube e qualche clip la locandina della cleopatra interpretata da tida bara dicevo lei non riesce ha sempre più successo ma a un certo punto si è scocciata di ricevere quasi tutti i giorni dei copioni in cui le dicono cosa deve fare cosa deve dire dove deve andare come deve andarci e quindi trova trova un marito e si sposa e decide di appendere l'arte recitativa al chiodo dopo cinque anni dopo cinque anni quindi nel 1925 tente il rilancio tente il rilancio però sarà un rilancio fallimentare non a caso il primo dei due cortometraggi che lei girerà al suo rientro è un cortometraggio comico gira un lungometraggio che è uno dei quattro lungometraggi che sono rimasti ancora nel sono ancora rimasti vivi potremmo dire che si sono salvati dall'incendio del magazzino fox ovvero di un chest and woman e poi però come dire il vero quella che dovrebbe essere la chiave di volta del suo rilancio e che quindi permette di le avrebbe permesso di cambiare anche il rapporto con il pubblico è un cortometraggio si chiama madame misteri diretto da un cortometraggio prodotto da hal roach che è stato uno dei grandi del cinema comico dei tempi del muto diretto da richard wallace e stan laurel cioè stanlio di stanlio olio che non era solo un attore comico ma era un grande gag ma era il vero genio comico della della coppia farà la parodia di se stessa e la parodia del suo personaggio e allo stesso tempo come dire mette in scena quel personaggio e lo come dire e cerca di smontarne tutti tutti gli elementi che le hanno dato così successo non ce la farà il film non avrà quel successo e per gli spettatori e per i critici cinque anni di stacco in un'arte che aveva poco più di vent'anni sostanzialmente erano un'infinità la gente l'aveva dimenticata ma soprattutto non non poteva accettare quella cosa lì non poteva accettare quella parodia il secondo cortometraggio che anche l'ultimo film gira teta bara è un si chiama 45 minuti da hollywood e anche lì gioca con la parodia ma allo stesso tempo va a riciclare elementi del suo stile il suo viaggio nel mondo del cinema fallisce il suo viaggio nel tentativo di emanciparsi da questa figura fallisce e quindi si ritira si ritira e negli anni ovviamente oltre a vivere la sua vita come come moglie ed accontentarsi forse forse a trovare una sua serenità questo non è chiaro propenderei per la serenità visto poi comunque non era non si ritira nel mistero a differenza del personaggio che le hanno creato addosso anzi fa lavori di consulenza fa quello che oggi potremmo chiamare acting coach in un certo senso da consigli a giovani attrici e da loro consigli per non restare ingabbiate nei ruoli da loro dei consigli proprio per andare contro quel sistema e trovare degli scamotaci dei trucchi per superare le barriere che il sistema li ha messo tra i piedi e però al tempo stesso rivendica in qualche modo quel suo ruolo perché soprattutto quando qualche anno dopo l'esplosione di tida bara arriva sulla scena pola negri tida ha già fatto il suo primo ritiro e pola negri è sulla scena e molti dicono che pola negri è la prima grande vamp del cinema è la prima grande sex symbol del cinema tida ferma tutti e dice no no la prima vamp sono stata io il primo sex symbol sono stata io che venga corretta questa definizione lo scrive al giornale che ha pubblicato questo questo errore allora se tra l'altro se dovrebbe esserci varla cioè valentina cestra quindi se vuole entrare per parlare un po della mostra io la invito la invito molto volentieri dicevo quindi mi farbbe piacere poi parlare con lei della mostra che domani si chiude quindi anche un invito a voi per per andare il suo personaggio come dire resta nella storia del cinema resta anche lontano però resta lontano da noi resta figlio dei tempi ecco una cosa molto affascinante delle icone che invecchiano è quella che danno il senso danno il modo di riscoprirle danno anche la gioia per chi guarda di riscoprirle il nome di tida bara proprio perché il fatto che dal 37 quasi non esistono più immagini di lei e che il suo nome ha fatto da eco al suo personaggio permette poi di riscoprirlo permette poi di non solo di riscoprirlo ma di capire cosa c'era in quelle immagini che all'epoca avevano sconvolto il mondo cosa c'era in quella figura in quegli occhi di grande ecco uno dei dei ritratti potremmo dire una delle opere d'arte ecco questa di stefano bessoni che è esposta al al museo al museo scusate alla galleria dove si svolge la mostra heart and soul mette proprio l'accento su quegli occhi sulla grandezza di quegli occhi che anche se potremmo dire avevano una funzione secondaria in quello che poteva essere la seduzione fisica proprio perché i suoi abiti erano estremamente succinti erano estremamente pieni di vedo non vedo ma più vedo che vedo ma fin da quel primo film in cui nasce il mito di tida bara ovvero la vampira full of the walls gli occhi avevano come sempre nel cinema muto avevano la funzione di catturare lo spettatore di non lasciarlo più andare ecco qui arrivata valentina dovremmo allora ci sei valentina? e non c'è il microfono adesso? adesso c'è buongiorno valentina ciao buongiorno Simonele bene allora io ho fatto appunto ho parlato un po' di questo personaggio e ringrazio Nicola Lucchi che ha curato il mondo di Nicola Lucchi che è un grande appassionato di storie della vecchia Hollywood e che ha curato il saggio che è all'interno del catalogo allora se ci parli un po' di questa mostra domani finissage e quindi raccontacelo un po' e soprattutto a chi non è ancora venuto invitiamoli a venire domani sì guarda io ringrazio e approfitto ringrazio intanto delle persone che sono venute a trovarci a partire dal 10 dicembre c'è stato il vernissage in mezzo alla tempesta di neve è stata una cosa abbastanza coraggiosa per molti però bello perché poi c'era Nicola che ci ha raccontato un sacco di di cose un sacco di notizie su Tida e con il suo bellissimo saggio che ha fatto proprio per il catalogo quindi domani chiudiamo quindi diamo un po' così l'addio a questa collettiva che ha visto svilare tanti autori tanti illustratori gravissimi, meravigliosi ognuno ha dato il proprio contributo andandosi a innanzitutto poi a studiare perché non è stato facile trovare anche fare proprio una ricerca dei frammenti prendere un film e andare poi a mettere qualcosa di più in aggiunta qualcosa di sicuramente di prezioso a livello visivo molto molto bello sono veramente contenta proprio per il motivo proprio per il motivo che dicevo all'inizio il fatto che a un certo punto spariscono le immagini di Tida Bara e quindi è il suo nome che evoca qualcosa evoca anche in un certo senso più dei film forse perché sono rimasti intatti i film sbagliati potremmo potremmo dire in un certo senso perché appunto Cleopatra e Salome non sono rimasti che sono quelli considerati i suoi capolavori quelli proprio iconici proprio i suoi sì esattamente però anche appunto anche la vampira che è da dove poi nasce il nome dà l'idea di cosa significa ed è bello vedere come l'eco di quell'immagine che parte dal nome e parte dai ricordi sia come dicevo più forte delle immagini delle immagini stesse perché in quei film che in qualche modo anticipavano delle tendenze penso al grande cinema biblico di Cecil B. De Mille che era mamma mia era però fortemente influenzato da quel modo di intendere l'eros qui è come se fosse tutto in bozza tutto in noce e però fosse solo per la come dire per la per la capacità di quegli occhi e di quel corpo che oggi sembra sembra strano vederlo e immaginarlo come un corpo che poteva far perdere la testa a spettatori e attori però ci crediamo perché l'eco del suo nome del suo personaggio è sopravvissuto forse usando come dire una facile metafora mitologica è risorto dalle ceneri di quel di quell'incendio hai ragione sì lei si legge su questa impalcatura assolutamente fantastica che si è conquistata con i suoi film sulla fiducia cioè perché è vero attorno a lei c'è tutta questa aura misteriosa è vero che oggi nel 2021 magari si fa più fatica a immaginare una serie di suggestioni sul suo personaggio su un certo tipo di fisicità o su come venivano mostrati certi aspetti dell'Eros eppure nel suo sguardo che ammalia e che affascina ha saputo fare proprio da ponte tra la vecchia ancora ancora non Hollywood poi così come si sarebbe trasformata insomma quello che sarebbe divenuto poi e oggi ha fatto quest'opera proprio di ripeto una fede ecco volevo chiederti innanzitutto ricordiamolo perché dove si svolge la mostra quindi indirizzo e tutto quanto sì la mostra si svolge in zona Pigneto siamo a Roma Nero Galleri il nome della galleria via Castruccio di Castracane 9 a pochi metri dalla dalla fermata della metro Pigneto quindi è molto semplice anche insomma da raggiungere e altra cosa perché ti da bara cioè perché a un certo punto tu come non so se definirti curatrice però insomma come motore di questa di questa come motore di questa mostra preferisco perché non sono una curatrice non lo faccio di non è il tuo lavoro diciamo no non è il mio lavoro non è la mia professione quindi è come dici giustamente ho acceso la miccia ho fatto un po' da motore era da un po' da prima della pandemia che si parlava fantasticavo di organizzare un evento che potesse sempre promuovere la nostra collana di cinema però associarlo anche a qualcosa di visivo legato all'illustrazione per coinvolgere anche gli altri gli altri autori che orbitano intorno a Bacemone quindi ho detto va bene ma se dobbiamo cominciare con qualcosa di iconico di forte ma che fa anche parte di di un certo tipo di cultura perché poi Fida è stata assorbita da tutta una che lì è una cultura underground io vengo dagli anni 80 quindi la sua immagine io la vedo da tanto e non sempre poi associata al cinema ma presa e invece messa poi in circolo grazie a tanti gruppi musicali che si sono come dire mossi per un po' per ricordarla per omaggiarla vabbè insomma diciamo che l'idea era partita da lì e quindi ho detto quale quale personaggio migliore quale personaggio cioè esiste più bello di Tida per cominciare questo filone legato al cinema e magari tante collettive che vedranno poi man mano protagonisti altre splendide icone del cinema muto e non solo e poi appunto era un come dire è interessante poi averlo fatto adesso averla fatta oggi questa oggi nel senso in questo momento storico questa questa mostra perché è un momento in cui la forza iconografica di certi personaggi femminili ha molto più modo di risaltare rispetto ad altri è un personaggio che è stata chiusa è stata costretta in qualche modo all'abbandono dell'arte d'attrice a causa del sistema e che però deve il fatto che è ancora un'icona dopo come dire cento anni praticamente dalla fine della sua carriera proprio a quel sistema che l'ha ingabbiata cioè incarna quel tipo di contraddizione che è il grande fascino di Hollywood o della pre Hollywood della pre Hollywood sì è proprio lì che si incastra questo è un tastello ibrido nella storia del cinema e quindi è difficile a volte parlarne e quindi classificarla in qualche modo accettare il fatto che appunto sia stato poi il sistema a riproporla più e più volte però è in piedi in piedi intendo che è ancora viva nella nella memoria degli appassionati di cinema non solo proprio grazie a questa cosa che dicevi tu a questo strano questo strano concetto di convivenza tra una cosa che rifiutava e una cosa che invece poi le ha dato la spinta propulsiva per diventare immortale e anche un po' l'ironia come dire l'ironia del destino di una donna che a un certo punto abbandona e quindi rivela tutto di sé cioè dice sono nata sono nata a Cincinnati cioè tutte le storie dell'Egitto sono fandoni e io sono una donna normalissima sono sposata è rimasta sposata al marito fino alla morte quindi per più di 30 anni quindi insomma una donna normalissima e che poi però un po' quell'incendio e un po' la sua morte è come se alla verità Hollywood non è fatta per la verità forse l'America non è fatta per la verità quindi la verità la mettiamo da parte torniamo a raccontare dell'Egitto dell'occultismo della vampira esatto questa cosa è rimasta in piedi nonostante tutto nonostante lei come dicevi tu ecco io mi sono connessa mentre stavi raccontando proprio nel momento del periodo in cui ritorna ad essere una persona normale teodosi anziché teodosi esatto però fa sorridere pensiero ecco che poi arriva Paola Negri lei invece si sente ma che state dicendo no no lo rimarco sono io io quella cosa non la voglio più fare né vedere però sono io però sono io quindi è tosta penso sia stata difficile da gestire come cosa però ci ha regalato questo personaggio fantastico e che è un personaggio che poi appunto vediamo vediamo ancora oggi se non vediamo più quel tipo di personaggio nei personaggi che vediamo anche perché appunto quello era figlio di un modo estremamente bigotto conservatore evidentemente maschilista di pensare il personaggio femminile però la sua icona cioè come dire il fascino intorno a quella donna distruttrice e che adesso magari viene come dire letto in chiave femminista cioè in chiave di presa di possesso delle proprie facoltà seduttive come veicolo di potere è bello cioè è quello che rende il personaggio molto prima che i suoi film ancora vivo ancora che ancora può parlare assolutamente sì si vede anche dalle opere della mostra stessa come ognuno poi è andato a cogliere determinati aspetti ecco quanti quanti artisti sono stati coinvolti per per quest'opere per questa mostra dieci 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 artisti dieci artisti è stato bello perché vabbè alcuni erano già già sapevano qual era il film che volevano andare a a rielaborare a omaggiare e altri invece ecco magari non la conoscevano bene quindi si sono poi documentati in seguito e sono andati lì a fare veramente un lavoro sugli archivi polverosi per andarsi magari a accodere il frame la cosa che era rimasta vedersi le cose che erano che erano in piedi legarci alla sinossi e poi capire che tipo di di mano dare al al personaggio sì anche perché appunto tranne quelle poche cose che sono sopravvissute e che si trovano tutte su youtube volendo tutte su youtube però appunto cioè il bello era andarsi a cercare delle immagini che non erano tra i film delle immagini che su pedicolo erano perse e che però in qualche modo sono sono tornate sono riemerse da sono riemerse si è detto bene dalla pubblicistica hai detto bene perché anche lì ci sarebbe stato tutto un lavoro che non abbiamo potuto fare per una questione proprio di ecco di tempi perché ecco l'altra idea che volevo aggiungere insomma per accompagnare tutte queste avere era proprio recuperare un certo tipo anche di cartellonistica di di locandine ma ci avremmo messo credo altri due anni perché eh sì problemi logistici e di tempo proprio però anche lì molto molto bello quindi ognuno poi si è andato a fare queste ricerche io ecco se fosse stato in grado di poter presentare un pezzo mio per esempio nessuno l'aveva scelto di qua la di barri cattivissima certo cattivissima sì e anche quello è uno di quei film che come dire penso a a Esmeralda che è uno dei suoi personaggi in molti l'hanno fatta dopo e qualcuno ha in un certo senso preso spunto da lei anche se adesso non lo vediamo più la du barri è lo stesso se non ricordo male che è da garbo poi portò al successo madame du barri sì sì hanno preso hanno preso ovviamente era lì ovviamente hanno vampirizzato la vampira hanno vampirizzato la vampira è vero assolutamente ma lei anche di Marilyn Monroe è il caso ah certo non so se lei no no l'ho detto nel nel saggio Nicola parla perché a un certo punto poi quando lei era diventata più adulta anche insomma molto matura per non dire anziana le chiedevano lei muore nel nel 55 ed era il momento in cui esplode il fenomeno Marilyn Monroe e ovviamente tutti chiedono a lei come primo sex symbol della storia del cinema chiedono cosa ne pensa di questo e ovviamente le dice che la trovo sexy come chiunque altro al mondo però anche lì anche lì lei fa notare che sì però io però io no ma sì poi non solo si stava si è anche preoccupata però ha sottolineato la pericolosità di quello che poteva subire Marilyn Monroe con lo stesso tipo di ingabbiamento di etichette di cose no ed è stata facile profeta infatti ragazzi evitiamo che lei faccia la fine che ho fatto io evidentemente lei come come persona era più più forte e Norma Jean Marilyn era più più fragile lei lei c'è caduta e Teodosia no per fortuna sua ecco sì Teodosia forse si ha reagito ha reagito diversamente diciamo anche se sopra lei non pochi problemi di salute ha avuto e secondo me non lo so se c'è un nesto tra i problemi che ha avuto poi nel corso dell'ultimo periodo della sua vita con tutti questi diciamo forti stress accumulati nel corso della della carriera che è stata breve ma intensa quindi penso che non lo so io un pensiero ce l'ho fatta su questa cosa ho detto chissà chissà diciamo che Marilyn si è bruciata in dieci anni invece come dire il decorso della malattia la malattia perché lei muore poi per un cancro allo stomaco Teodosia Goodman ha durato 30 anni quindi sì probabilmente delle scorie ci sono state però ha quantomeno avuto la forza di reagire e di resistere assolutamente assolutamente allora Valentina io ti ringrazio invito tutti quanti invito tutti quanti domani ad andare alla Nero Gallery al Pigneto via via Castruccio via Castruccio di Castracane 9 l'apertura l'apertura della galleria è dalle dalle 15 alle 19 considerando che c'è un finissage quindi comunque è l'ultimo giorno quindi magari 19 e un quarto ma sì 19 e un quarto ancora ci trovate lì che sappiamo bottiglie di spumante quindi ci trovate insomma se volete passare sicuramente cosa gradito grazie Emanuele io ne approfitto poi visto che questa è una puntata speciale di CinemaScope invece domani mattina dalle ore 7 sulle varie piattaforme di streaming di podcast trovate la puntata regolare che è l'ultima dell'anno dedicata a Orson Welles e in particolar modo a Greg Toland alla versione di Greg Toland se non sapete chi è Greg Toland e non sapete che versione deve dire su Orson Welles potete ascoltarla anche qui sulla pagina Facebook imperdibile imperdibile anche qui sulla pagina Facebook sì perché questa volta non ho fatto in tempo a mandartela in anteprima cioè l'ho finita di montare mezz'ora fa sono veramente curiosa grazie a tutti di averci di averci visto e o ascoltato e alla prossima buona serata grazie Valentina e andate alla mia locale di domani ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao